Ottava e conclusiva corsa in programma al Cirigliano di Aversa, premio Vela. Undici concorrenti già agli ordini dello start. In prima fila, Bella Donna Dark con Raffo Palomba in sostituzione di Gallucci. Bugatti Ferm, Uccheli Adorio, Zador, Barracuda Garre e Beauty AMG. Seconda, Benedetto Laser, Baldwin, Bayard Ok, Zirac e Brunello Grim. In partenza emerge chiaramente Zador. Bugatti Ferm prova a rientrarlo, si sistema seconda. Bella Donna Dark, terza, veloce dalla seconda fila, Bayard Ok. Bayard punta in avanti. Quattordici e otto in lancio. Zador è un po' ardente e va sul passo. Adesso sembra disposto a dar strada Zador. Primo quarto, ultimato in ventinove e mezzo. Sfila a condurre il favorito della gara a Bayard Ok. Brunello Grim è finito tra gli strali della giuria. Quindi restano in dieci dopo la squalifica di Brunello Grim. Seicento in quarantatré spiccioli. Il leader continua del suo passo e va a completare un primo giro notevole in cinquantotto e mezzo. Barracuda Gar aggira a Zador. Trascinandosi Zirac. Barracuda si sistema secondo. Chilometri ultimati in 1.13. Bayard Ok, Barracuda Gar, Zirac. Barracuda continua sul passo e prova l'aggancio a Bayard. Che risponde con una frazione in 14.2. Bayard in vantaggio, Barracuda in seconda. La rottura di Zirac. Di dentro guadagna una posizione Boldwin. Ingresso in retta d'arrivo con Bayard Ok in vantaggio. Problemi per Bayard che sbaglia. E così Boldwin all'interno è passato. Boldwin va a vincere nei confronti di Barracuda Gar. Per il terzo, il sette, Benedetto Laser. 8-5. Sette, l'arrivo probabile ed ufficioso. Un'altra corsa gettata alle ortiche da parte di Bayard Ok. Una rottura inaspettata a 150 dalla conclusione. Che consegna il successo a Boldwin. Sul mio cronometro 1.57.8. Per cui la media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.13. Decimo più decimo meno per Boldwin e Luigi Cozzo. che neanche proprietario e allenatore. Il figlio di Zizanbrook, Turre e Gilda Bypass ha guadagnato posizioni all'interno dai 600 finali in poi. Ed ha tratto beneficio della rottura di Bayard Ok. E' tutto dal Cirigliano. Arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà sabato 21 maggio. Buona serata a tutti.